Ma c'è niente di noi su di noi E nessuno verrà a salvarci Lo capirò, respiro e sorrido come se mi guardassi Come se l'improvviso potessi incontrarti Splendo di luce grigua che non illumina Scegliere i brani è un po' complicato Perché naturalmente siamo legati più o meno a tutta quanta la nostra produzione Tutta che una scelta andava fatta E quindi abbiamo cercato innanzitutto di scegliere i brani Che fotografavano alcuni momenti particolari del nostro percorso Poi un altro criterio è stato quello di rappresentare un po' anche le collaborazioni Che abbiamo avuto la fortuna di incontrare durante il percorso stesso Pensiamo per esempio a un brano come Amore Con la collaborazione di Polo Benvenu O ancora a Un lungo vagine autostrada Con la collaborazione di Franz Goria, De Petro, De Fluxus O ancora a Un paese innocente Con la collaborazione di Roberto Angelini Tuttavia abbiamo anche deciso di inserire due inediti Perché il nostro percorso è veramente multiforme Eterogeneo Abbiamo attraversato moltissimi generi Per cui siamo partiti da album che probabilmente fotografavano maggiormente Il nostro periodo più dark, new wave, ghiaccio, circostanze Per poi passare ad album un po' più orientati a rock d'autore Come Luci di Nervi Ad un album molto più spinto A livello di sonorità, di distorsioni E quindi abbiamo anche probabilmente l'ambito Quello che è il post-rock, il punk Lo showgates, perché no, attraverso Per poi inaugurare una fase di totale sottrazione Che è quella del trio elettroacustico Perché a un certo punto Capita, credo, non solo nella musica Ma nella vita in genere Quando si fa un bilancio Capita anche alle volte di dire Ho messo troppo sotto il fuoco della mia attenzione E' giunto adesso il momento di spogliare Di sottrarre Di ritrovare un po' l'essenza E così abbiamo fatto Quindi i due inediti rappresentano probabilmente Un po' i due estremi Il rock d'autore quasi letterario Di un brano dedicato alla Basilicata Quale ci fa tremare la sera Dove c'è una voce recitante di un attore Regista di Gerald Colle, Maurizio Vacca E un brano molto più spinto Post-rock, showgates Con le diventi Che dà il titolo all'album Strumentale In cui riprendiamo in mano le nostre carie distorsioni E che presto ritorneranno Perché dopo questo disco che tanto ci ha regalato Siamo pronti a inaugurare una fase live nuova Aggiungendo un batterista Quindi tornando in una formazione a quattro Che ci consenta un po' di rappresentare sul palco Tutto il nostro percorso Sono rimasto colpito dalla copertina dell'album Che rispecchia le nostre anime Un po' le anime da bambino e da artista Come è venuta questa idea E a chi è venuta questa idea? L'album è stato progettato da tutto il gruppo Poi realizzato da me Nasceva un po' dall'idea di voler rappresentare Il concetto del divenire Anche nelle vite di ciascuno di noi Per cui la fotografia da bambini Che è quella presente nell'immagine di copertina E l'ultima fotografia che invece abbiamo fatto Che è una foto in studio Fatta da Enzo Piglionica Un videomaker di Bitonto che ci segue da anni Ha curato la nostra immagine I nostri videoclip Tutte le foto di scena Che negli ultimi anni abbiamo fatto Per cui il concetto era un po' anche quello Di voler rappresentare il diventi Non solo come numero E quindi in riferimento ai vent'anni di attività Ma anche come tu diventi Ciascuno di noi in qualche modo Vive nella propria vita Una fase di continuo cambiamento Di continua trasformazione E di continua evoluzione Un po' come l'immagine del Bruco Che nello stesso momento anche fa falla E che ha in sé le potenzialità Per poter essere sempre qualcosa di diverso E ciascuno di noi è così Ecco appunto se Appunto questo importante CD La presentazione Se ci sarà una tournée eventuale Sì Stiamo proprio in questo periodo Collaborando con Giovanni Orlando Della Joe Black Production Stiamo pensando a questa ipotesi E stiamo seriamente immaginando Di tornare sui palchi Stiamo già in contatto con Guido Lioi Che è il batterista di Bari Che faceva parte di una band A cui siamo molto legati Perché abbiamo fatto un percorso insieme Un pezzo di percorso insieme Huawei Ticket Poi purtroppo il loro cantante Maurice Maremonti Ci ha lasciato prematuramente Però il legame è rimasto È molto forte E con Guido Lioi Abbiamo deciso di tornare Sui palchi In formazione rock E quindi per consentirci Di pescare a piene mani In tutto il repertorio Quindi dei brani Elettroacustici Ma anche a quelli più Che necessitano maggiormente La presenza di un batterista Pestone In certi casi Il segreto di vent'anni Di carriera e di successi E poi le tematiche Dei vostri ultimi brani Ultimi inediti Ci dividiamo Per quanto riguarda Le tematiche Le lascio ad Anna Maria Il segreto Guarda È difficile rispondere Credo però Che quello che abbiamo Sempre cercato di fare È innanzitutto Mantendere un profilo Di onestà E umiltà In tutto quello che facciamo Che è fondamentale Per evitare Giri sulle montagne russe E poi Per poi cadere Rovinosamente a terra Tante band Abbiamo visto passare Davanti a noi Che magari Per un piccolo Tratto di strada Hanno creduto Di essere arrivati Per poi Franare rovinosamente Noi crediamo invece Che sia opportuno Innanzitutto Lavorare sempre Con umiltà Con onestà intellettuale Verso se stessi E verso le persone Che ci seguono E poi mantenere sempre Un altissimo livello Di curiosità Ma per curiosità Intendo non solo Rispetto al mondo Della musica Ma rispetto al mondo In genere Cioè penso che Vent'anni di attività Debbano necessariamente Nutrirsi Di curiosità Verso tutto quello Che ci attraversa E quindi Il nostro cantiere aperto Si è sempre nutrito Di teatro Di poesia Di videoarte Di teatro danza In questo momento Per esempio Siamo molto attenti Alla paesologia Di Franco Arminio Che è una scienza Creata da questo poeta Di Bisaccia In provincia di Avellino Che ci sta affascinando Al punto di pensare Per esempio Di scrivere le musiche Per un documentario Su questi paesi Un po' abbandonati Della Basilicata Quindi mantenere Sempre una fortissima Curiosità Fondamentale Poi a proposito Di teatro danza A questo punto Passerei la parola Ad Anna Maria Abbiamo anche Molto recentemente Scritto Le musiche di scena Di uno spettacolo teatrale Che seguiamo dal vivo Che si chiama Il mio inferno Vita Razzingaro Dedicato al pugile Sinto Ruccheri E passo la parola Ad Anna Maria Sì A proposito delle tematiche Affrontate Nelle nostre canzoni Diciamo che Il nostro progetto Ha un'anima divisa in due Che forse nasce anche dal fatto Che le canzoni Sono scritte Per la maggior parte Da Vanni E da Anna La nostra chitarrista Quindi Maschile e femminile Che si compensano E si scontrano Ma nello stesso tempo Sono complementari E questo si riflette Inevitabilmente Anche nei testi Delle canzoni Che sono Per una parte Molto introspettivi Crepuscolari Rivolti verso l'interno Quindi che raccontano Viaggi interiori E per altri invece Proiettati verso Tematiche sociali Verso l'esterno Quindi a raccontare Il tempo che viviamo La ferocia del tempo Che abbiamo vissuto E che si sta Prepotentemente Ripresentando Per alcuni versi E proprio questo spettacolo Il mio inferno Nasce da una delle nostre canzoni Che si chiama Come fiori E' una canzone Che vuole recuperare Una storia dimenticata Che è quella del pugile Sinto Ruckeli John Ruckeli Trollman Un pugile Particolarmente in auge Durante il periodo Della Germania nazista Che però purtroppo Nonostante le vittorie Le innumerevoli vittorie Conseguite sul campo Grazie anche ad uno stile Di box Particolarmente innovativo Viene purtroppo A causa Delle sue origini Viene internato In un campo di concentramento E lì purtroppo Muore Per mano di Un capo Che tra l'altro L'aveva riconosciuto E aveva riconosciuto Questo pugile Caduto in disgrazia Ci ha fatto molto piacere Poter Trasformare Questa storia In una canzone E soprattutto Grazie ad alcuni incontri Fortunati Come quello con Maurizio Vacca Con questo regista gioiese Far diventare Questa canzone Il punto di inizio Di uno spettacolo teatrale Con le nostre musiche Di scena Eseguite dal vivo Quindi musiche Dei CFF Che racconta La storia Di questo pugile E non a caso Una storia Che parla A tutti noi Una storia Che è molto Attuale Che è una storia Di discriminazione Una storia Di Di conflitti Nati Per l'appunto Per la paura Del diverso E credo che Ora più che mai Questa paura Sia purtroppo Viva Nella nostra società E ci accompagni Pericolosamente Con un titolo Però il mio inferno Inverno Che si riferisce Ad un'altra nostra canzone Molto più introspettiva Quindi questo contrasto Questa complementarietà Nel nostro progetto È sempre viva Ed è il motore Che l'ha fatto andare Avanti da sempre